Preparativi in corso per la festa di Capodanno in piazza Santa Maria a Lucca. Gli operai stanno terminando l'allestimento del palco sul quale si esibiranno gli ospiti della serata. Lo spettacolo che accompagnerà i lucchesi verso il 2023 sarà ad ingresso gratuito, inizierà alle 22 del 31 dicembre e proseguirà fino alle 3 del mattino di Capodanno. A ricordarci gli ospiti di questa 25esima edizione della festa è la conduttrice Emanuela Gennai. Un 2-3 anno fortunato, questo è il titolo del nostro Capodanno perché ci auguriamo che il prossimo anno sia veramente ricco di tanta salute. Tantissimi sono gli ospiti quest'anno, a partire dalla splendida Luisa Corna, la DJ Veronica Nicolai, il DJ Federico Avanzati e poi a seguire i Meshville, un gruppo di 4 DJ fortissimi, un sacco di visualizzazioni su tutti i social. E che dire, vi aspettiamo tutti quanti in questa bellissima location. Nel corso della serata è prevista anche la premiazione del Lucchese dell'anno. Lo spettacolo è organizzato dall'Associazione Don Baroni con il coordinamento del Comune di Lucca, che sostiene l'iniziativa insieme a Lucca Crea e alla Fondazione Cassa di Risparmio.